Buonasera a tutti. Il suono della campana è particolarmente indicato questa sera. Sono il generale Franco Cravarezza, presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria. Vi porto il saluto e il benvenuto anche del direttore della biblioteca e il mio e della nostra associazione in modo particolare. Sono particolarmente grato a tutti voi che siete qui e soprattutto al Centro Studi Piemontesi che ha voluto scegliere questa nostra sede anche per dare questo messaggio ulteriore di quello che oggi vediamo e che facciamo e sono onoratissimo di poterlo fare. Il suono della campana l'abbiamo messo qualche tempo fa, più che altro per dare un senso un po' di famiglia, famiglia pastorale diciamo così, perché il suono della campana che richiamava all'ovile le pecore smarrite, la smarrita è il ristorante che abbiamo qua di fianco che è proprio questo simbolo della campana. Allora è per sentirci anche ancora più in famiglia. Siamo sotto a tonnellate di carta, di libri e quindi è particolarmente indicato presentare un libro. Per di più siamo più o meno, la nostra biblioteca è nata nel 1720, all'inizio del 1700 e quindi è particolarmente indicata anche per quello che raccontiamo stasera, per una vita veramente importantissima che in quel periodo era in Torino e Madre Maria degli Angeli, ecco io lascio solo due pensieri prima di cedere la parola a chi è questa sera presente con competenza questa bella vita e questa esperienza e questa testimonianza, era di stretta clausura. Io ho nel passato assieme a mia moglie avuto un'esperienza veramente unica nell'incontro di due suore di clausura, una è suore Enrica di Boves e delle Clarisse che incontravo appena sposati, andavamo a trovarla da famiglia ma tutte le volte ci meravigliava per il suo candore, per quello che viveva come vita e un'altra è stata un incontro di pochi secondi ma che ancora oggi porto nel cuore, eravamo sulla costiera amalfitana e siamo andati in alto su Amalfia, c'era questo convento e mia moglie ci tiene molto a entrare ovunque ci sia una chiesa, siamo andati a vedere e ci ha aperto una suora di clausura che fanno a turno per ricevere gli ospiti, che aveva uno sguardo e un sorriso straordinario. Ecco proprio mi ha fatto sentire che meritava fare quella vita per poter avere un sorriso e degli occhi come quelli. E allora ecco qui abbiamo davanti a noi una beata e tutte le volte che si parla di santi, di beati, io personalmente mi sento un pochettino indegno del ruolo che rivesto e che faccio nella vita perché bisognerebbe essere più coerenti con quello che si crede e che si fa perché è la missione propria di ciascuno di noi di raggiungere almeno il meglio che c'è nella propria vita. Qualcuno ci riesce come la beata ecco e devo dire che mi fa molto piacere che in questo contesto abbia coinvolto Torino in maniera particolare. Ecco voi vedete l'ermo da cui ha fondato nel 1700 il suo ordine qua a Torino, o ha portato, non è affondato qua a Torino ma ha portato qua a Torino e qui è poi morta a Torino proprio nell'ermo allora che c'era in piazza San Carlo, ecco tanto così per avere dei riferimenti poi sicuramente ve ne parleranno di più ma a me piaceva parlare dei collegamenti su Torino e mi sono stupito guardando facendo questa piccola ricerca che ci siano così tanti ancora di eremi di clausura nell'area. Ce ne sono quattro in Torino da quello che ho individuato, ce ne sono sei nella provincia, insomma quindi siamo comunque un territorio che a questa realtà oltre che dello stimolo e dello spirito però sa dare anche una rilevanza particolare. Quindi ringraziamo tutte quelle che scelgono questa vita che può essere di sacrificio ma che può anche dare dei grandi vantaggi per tutti come è stato per Sor Maria degli Angeli. Ecco lì quest'anno facciamo i 300 anni dalla morte ma qualche giorno fa, qualche anno fa, qualche anno fa nell'11 abbiamo fatto anche l'annullo postale, ecco questo è un'altra cosa delle... vi volevo far presente che dal 20 ottobre al 18 dicembre Torino celebra questa beata, il che vuol dire che è entrata nell'anima di Torino, ci sono una quindicina di eventi, questo è uno di quelli assieme a tanti altri, quindi ognuno di noi può diventare protagonista di questo percorso. C'è anche l'annullo postale a significare anche il significato che si vuole dare a questa presenza ma nel 2011, vi dicevo, sono stati celebrati i 350 anni dalla nascita. Quindi allora in questo senso è molto importante capire che Torino vuole bene a questa beata. Così solo per ricordare un altro aspetto di come Torino è legata a questa santa, penso che poi dopo lo spieghino meglio di me, ma a Genova nella chiesa proprio dalla sua fondatrice dell'ordine, c'è un altare dedicato proprio alla nostra Santa Maria. È indicata così, ecco questa immagine che mi fa piacere poter mettere e che possiate vedere, si vede la santa con il Signore che gli indica Torino e lei sembra che con la mano sinistra regga proprio Torino. È bellissima questa immagine che c'è in quella chiesa di Genova, di San Carlo e Vittore, proprio perché tra l'altro è chiamata Madonna della Fortuna, quindi può darsi che porti anche bene, chissà ci dia una mano in tanti sensi. Ecco, però è bello questo legame con Torino, quella Torino del 1700 in cui lei aveva vissuto, compreso la difesa di Torino, ne aveva anche parlato, voi probabilmente lo diranno, lei aveva già fondato qua a Torino l'ordine, aveva già portato l'ordine qua a Torino, una Torino che si stava trasformando da ducale in reale, insomma è un momento importante della vita di Torino in cui lei ha poi realizzato e dato molto. Allora noi abbiamo la fortuna di avere vicino la sua tomba, abbiamo vicino il suo eremo e in questa tra l'altro piazza esterna che è proprio dedicata a lei, a Sor Maria degli Angeli, teniamola di riferimento perché come tutte le cose della vita abbiamo bisogno di riferimenti importanti, loro può essere un piccolo lumicino che ci rischiara talvolta la strada, che ci può dare delle ispirazioni e che ci può aiutare a vivere meglio o aiutare gli altri a vivere meglio, come ha fatto lei. Allora ringrazio davvero il Centro Studi Piemontesi che ha voluto organizzare qua con noi questa realtà, ringrazio Gustavo che mi ha spinto a prendere in mano e poi ringrazio la dottoressa Reineri per aver fatto questo libro che vi porterà sicuramente almeno una possibilità di reggere qualcosa che ci aiuta, come ho detto già prima, a poter pensare e vivere meglio. Grazie a tutti voi e a tutti quelli che l'hanno organizzata. Grazie al generale Cravarezza, presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale e grazie a lui si possono fare tante cose molto belle in questo splendido auditorium che oramai per riuscire a fare un'iniziativa qui bisogna mettersi in coda, pregare, chiedere, mettersi lì, aspettare un buco eccetera, che è un bellissimo segno di vitalità della cultura e soprattutto in questo contesto della cultura alta. Noi abbiamo collaborato come Centro Studi Piemontesi per organizzare oggi la presentazione, non perché ne siamo gli editori, l'editore del libro Io sono Carmelita, Beata Maria degli Angeli, Maria Fontanella e potentissimi San Paolo. Però siccome per due motivi siamo legati a questo libro, tanto per l'autrice Maria Teresa Reineri che ha pubblicato praticamente tutti i suoi lavori con il Centro Studi Piemontesi, in particolare proprio su temi che riguardano il Carmelo di Moncaglieri e quindi la Beata Maria degli Angeli aveva pubblicato in Studi Piemontesi un saggio sulle famose ricami delle lesene, una cosa rarissima che capita una volta o due nella vita di poterle vedere perché sono costodite in questo Carmelo e solo in qualche occasione vengono esposte. Poi naturalmente altri temi legati alla Beata Maria degli Angeli sia in Studi Piemontesi sia in altri libri che abbiamo pubblicati. Però c'è anche la Beata Maria degli Angeli nel volume, credo il primo che abbiamo pubblicato noi come Centro Studi di Maria Teresa Reineri, Anna Maria d'Orlean, il volume che ha avuto un grandissimo successo nonostante la sua mole di 700 pagine e che è andato esaurito ma dalla prossima settimana esce la nuova edizione quindi chi lo cercava sappia che arriverà. Ecco perché siamo qui a collaborare con la Biblioteca Nazionale Universitaria, con la Maria Teresa Reineri, con le suore del Carmelo di Moncaglieri, saluto anche il Presidente della famiglia Moncaglieresa Domenico Giacotto che tanto ha fatto per le manifestazioni e le iniziative della Beata Maria degli Angeli, è presente anche il Presidente dei Centro Studi Piemontesi Giuseppe Picchetto, Rosanna Roccia il Direttore degli Studi Piemontesi per dire che il Centro Studi Piemontesi non va in giro solo a presentare o a occuparsi di quelle che sono le sue personali edizioni ma si fa e continuerà a farsi promotore e ad interessarsi di tutto quello che ha a che fare con il Piemonte, con gli antichi stati sabaudi, con i nostri valori, la nostra cultura. Io non devo presentare il libro, il mio compito è solo fare un po' da passaparola, allora a questo punto darei la parola per presentare il volume a Gustavo Mola di Nomaglio, storico notissimo, casualmente anche Vice Presidente del Centro Studi Piemontesi e dopo alla fine daremo la parola a Maria Teresa Raineri e poi come sempre al pubblico se vorrà intervenire. Prego Gustavo. Grazie, chissà se riesco a parlare di là, no, parlerò di qua. Però non so se c'è Tommaso, riesco a parlare di qua? Sì, riesco. Beh, due parole di inquadramento essenzialmente. Tanto grazie a tutti di essere qui, il Centro Studi Piemontesi, come diceva Albina Malerba, fa molte, molte attività, talvolta abbiamo il dubbio che il pubblico possa non reggere l'urto del ritmo, sia l'altro ieri sia ieri erano in corso presentazioni, conferenze molto affollate, anche oggi, nonostante la sala sia molto grande, l'immagine è quella di una sala semipiena. Anzi, è una sala semipiena di persone che mentre fuori si celebrano Black Free Day e chissà quante altre iniziative consumiste destinate a portare forse non al meglio la civiltà di cui facciamo parte, il mondo che in qualche modo ci hanno consegnato e che dovremmo a nostra volta consegnare a chi viene dopo di noi. Stiamo qui a ricordare una figura che ha poco a che vedere con quello che è il mondo circostante di oggi. Una figura che tra l'altro oggi qui fa da contraltare a due precedenti incontri che riguardavano Lutero, quindi in qualche modo ha anche una presenza che bilancia altre presenze anteriori. Qualcuno mentre entravo mi diceva, ma sarà stata come la monaca di Monza e via dicendo, l'avranno obbligata a farla suora. No, assolutamente il contrario addirittura. Apparteneva a una famiglia nobile nota che era giunta da Como a Torino, che era diventata molto facoltosa grazie ai commerci, si era presto imparentata con le principali famiglie della corte subalpina, aveva già un matrimonio bell'epronto, la famiglia avrebbe voluto che si sposasse, lei ha voluto farla monaca ed è stata una scelta che ha dato origine a qualche stridore in famiglia, perché è esattamente il contrario di quello che ci narrano per quanto riguarda la monaca di Monza. Questo è un fatto probabilmente non banale. D'altronde la religione del passato, i religiosi anche del passato, gli uomini di religione, le donne di religione, erano forse più concreti di quanto ci consenta di capire quello che è oggi la lettura che possiamo dare. I vertici della Chiesa stessi oggi non hanno forse un richiamo così alla concretezza come sarebbe auspicabile. Ve lo immaginate un capo della Chiesa dei secoli passati che invitasse al metissage a tutto tondo a farsi invadere da forze ostili che per mille anni hanno tentato di occupare l'Europa, ogni qualvolta non sono state frenate con le armi, non con le parole, hanno preso il sopravvento, hanno avuto lunghi periodi di occupazione, hanno schiavizzato gli occidentali, gli europei, hanno fatto schiavi, hanno raccolto riscatti, questo per secoli, ve lo immaginate? No, c'era una concretezza che sicuramente oggi noi non riusciamo neanche a sognarci. E in realtà dobbiamo esserne consci perché la prima grande forma di sopravvivenza è quella dei nostri discendenti. Noi sopravviviamo prima di tutto, la nostra piccola eternità è quella che abbiamo attraverso i nostri discendenti e abbiamo il dovere di conservarci, di difenderci e di trasmetterci. Naturalmente abbiamo una grande crisi demografica. Ieri sera D'Alema, in quella trasmissione condotta da un giornalista che sembra fatta di plastica, diceva che addirittura abbiamo pochi emigranti, che c'è una stagnazione demografica. Ma è vero che c'è stagnazione demografica. Abbiamo un numero effettivamente di nascite incredibilmente basso, andiamo verso un decremento demografico sempre più marcato, ma quali saranno i motivi? Magari anche questo mondo che si sta profilando all'orizzonte potrebbe essere scoraggiante. Oppure, chissà, magari gli aborti dal 1980 in avanti sono stati circa 4 milioni. Quindi, se qualcuno di quegli aborti, naturalmente contando solo quelli che le statistiche ufficiali consentono di misurare, perché poi ci sono quelli clandestini, perché poi ci sono quelli chimici e così via, da qualche tempo a questa parte. Ora, se non avessimo avuto forse tutta questa situazione, qualcosa di diverso ci sarebbe. Pensate quei giornalisti che recentemente, molto giustamente, hanno pianto per quelle donne che sono affogate in mare, che erano incinta, che avevano il loro bambino in grembo. Beh, questi stessi giornalisti, domani ci potrebbero dire che 4 milioni di bambini uccisi con l'aborto negli ultimi 30 anni sono la cosa più naturale e più logica del mondo. Ma veniamo alla nostra beata. Marianna Fontanella, dicevo, ha una sua concretezza, perché i tempi di Marianna Fontanella di Baldissero, Maria degli Angeli, erano tempi in cui gli stessi santi erano coscienti di appartenere non soltanto a Dio, ma appartenere anche a un determinato angolo del mondo. Per cui noi possiamo vedere, il generale Cravarez citava l'assedio di Torino, il ruolo che viene attribuito a due beati, alle loro preghiere, nella difesa della città e nella liberazione della città dall'assedio. Bene, parliamo quindi di Maria degli Angeli e parliamo del beato Sebastiano Valfrè. Le loro preghiere, l'affidamento voluto da Maria degli Angeli di Torino alla protezione di San Giuseppe, sono state più forti delle preghiere di altri probabili santi, beati, che pregavano per la cosa opposta, per il risultato opposto dall'altra parte dei confini. C'era una concretezza diversa. Erano santi, erano beati, erano beati militanti, militavano per l'interesse del prossimo, che era il prossimo loro, non era il tentativo di risolvere i problemi di tutto il mondo velleitario, illusorio, catastrofico, in prospettiva. Erano problemi concreti, era il benessere del prossimo, era il benessere del povero, era la carità, la carità vera, quella che serviva veramente a chi si aveva di fianco, a chi si vedeva soffrire, a chi si poteva aiutare. Quindi la beata Maria degli Angeli aveva una forza straordinaria anche nell'incitare alla difesa il popolo piemontese, come anche il beato Sebastiano Valfrè, nel momento in cui gli eserciti francesi circondavano la città, nel momento in cui quella piccola realtà, non politicamente perché era una realtà importante, ma piccola dal punto di vista dimensionale, che era il Piemonte Sabaudo di quegli anni, in quello stesso momento hanno saputo infondere una grande forza nella dinastia Sabauda, nella popolazione piemontese e nella popolazione di Torino in modo particolare. E questo dal mio punto di vista, tutte le cose che ho detto sono strettamente personali e non riguardano il libro di Maria Teresa Reineri, sono aspetti fondamentali che rendono la beata tuttora attuale. Visto che c'è Daniele Bolognini, posso approfittare di te un secondo per fargli annunciare l'inaugurazione imminente che fa finta di non capire, vieni, vieni, annunciare l'inaugurazione di una mostra dedicata alla beata e siccome abbiamo la fortuna di avere colui che ne è il motore, gli chiederei di dirne due parole. Prego Daniele. Ma dico soltanto che il 7 dicembre ci sarà nel Museo del Cesano l'inaugurazione della mostra e ci saranno dei ritratti, dei cimeli, dei documenti, lettere autografi, insomma nel Carmelo di Moncaglieri hanno sempre conservato gelosamente tutto quello che riguarda la beata, hanno tantissime cose, una parte sarà esposta appunto nel Museo del Cesano dal 7 dicembre fino all'11 febbraio, quindi insomma poi distribuiremo le locandine, insomma faremo la pubblicità, però voi già lo sapete, quindi siete tutti invitati, anche già la presentazione che sarà appunto nel pomeriggio. Gustavo è stato come sempre molto veloce, adesso diamo spazio all'autrice Maria Teresa Reineri, prego. Grazie, voglio solo ringraziare, prima di iniziare, sia il generale Cravarezza, Albina Malerba, Gustavo Mola di Nomaglio e il Presidente del Centro Studi Piemontesi e diciamo tutti i convenuti, perché veramente questa vostra venuta, come posso dire, mi scalda il cuore, mi fa molto felice. Bene, nonostante la presentazione già fatta altre volte, voglio ricordare che quando circa tre anni fa Sor Maria Imelda dell'Eucaristia, che è monaca carmelitana scalza nel monastero di Moncaglieri, mi invitò a scrivere una biografia nuova che comparisse per i 300 anni, per le celebrazioni che si sarebbero fatte per i 300 anni della morte di Maria degli Angeli, il mio primo impulso fu quello di rifiutare. La mia attività scientifica non mi aveva mai dato adito ad avvicinarmi a argomenti di spiritualità e, d'altra parte, io sentivo che la mistica seicentesca di questa monaca era assolutamente lontana dalla mia formazione. In effetti, io avevo già scritto un piccolo saggio che era comparso in un volume a più mani nel 2011 su Maria degli Angeli, come Mariana Fontanella, cioè avevo ricercato le genealogie paterna e materna per capire come questa famiglia fosse giunta a Torino. Avevo scoperto che i Fontanella arrivavano da Como, erano venuti a Torino abubidendo il richiamo di Carlo Emanuele I che voleva instaurare nuovi commerci, nuove attività che potessero occupare, almeno in parte, i tanti poveri che riempivano la città. E di Fontanella, tre fratelli, Giovanni Donato, Giovanni Pietro e Giovanni Paolo, a Torino avevano messo su un'attività commerciale nel campo delle setterie, lanerie, soprattutto setterie perché arrivavano da Como, un commercio che si era sviluppato rapidamente accrescendo e portando veramente le famiglie Fontanella a un buon livello di vita, anzi, diciamo, assolutamente un livello di agiatezza non indifferente. Tanto che entrambi i fratelli, soprattutto Giovanni Donato e Giovanni Paolo, di Giovanni Pietro purtroppo si perdono le tracce, probabilmente muore molto presto, i tuoi fratelli erano stati membri della Compagnia di San Paolo, avevano occupato posizioni rilevanti all'interno della compagnia, avevano finanziato anche la fondazione della Casa del Soccorso delle Vergini proprio verso la fine del 1500. In più, la loro posizione aveva permesso, e quindi evidentemente lo sviluppo dei commerci non solo in Piemonte, ma anche con la Francia e soprattutto con Genova, aveva permesso a Giovanni Donato, il bisnonno di Marianna, di sposare in seconde nozze una dama genovese della potente famiglia Cibo, il che conferma la posizione sociale. Diciamo, la attività era così di grosso livello, di alto livello, tanto che i Fontanella furono gli unici fornitori di tutto quanto era stato necessario dagli abiti alle nuove quadrappe per il matrimonio di Vittorio Amedeo I con Cristina di Francia. E, avendo concesso un credito per lunghissimo tempo, erano poi stati ricompensati con cariche all'interno dell'amministrazione Sabauda, con l'acquisto della cittadinanza più torinese, eccetera. La famiglia di Giovanni Paolo da origine ha una discendenza numerosa, sia maschile che femminile. Giovanni Donato, invece, ha un solo figlio maschio, che è padre di anche un altro solo figlio, Giovanni Donato Junio, padre di Marianna. La famiglia materna da cui nasce Marianna è Tana, Tana nobili di Chieri, ben noti in Piemonte. I Tana sono di due rame, cioè un Tana di Verolengo e un Tana di Santena. E la madre di Marianna, Maria Tana, appartiene a questa seconda linea. I Tana dovevano essere molto conosciuti, non solo in Piemonte, perché una antenata di Maria Tana, una prozia di Maria Tana, Marta, era stata dammigella d'onore di Elisabetta di Valois, l'aveva seguita a Madrid, quando lei andò sposa a Filippo II d'Asburgo, e alla Corte di Madrid, Marta aveva conosciuto Ferrante e Gonzaga delle Stiviere, si erano sposati, da questo matrimonio nasce Luigi, Luigi Gonzaga, che noi oggi veneriamo come santo. Quindi, l'aver lavorato all'interno degli archivi e aver poi scoperto che, individuato perfettamente la casa in cui Marianna era nata, e aver ottenuto che il municipio di Torino, proprio nel 2011, mettesse una napide a ricordo di questa monaca, che fu la prima beata torinese e anche la prima carmelitana scalza italiana ad essere beatificata, gli aveva assolutamente gratificato. E mi sembrava di aver concluso la mia ricerca. Però, non voglio dire subito un no, anche se mi spaventò ancora di più il fatto che Suorimelda mi dicesse scrivi una biografia come quella di Anna d'Orlean. Allora, mi tremarono veramente i polsi perché dissi Anna d'Orlean è un personaggio che io ho amato molto, ma è logico che ne avevo capito, ne avevo interpretato, i suoi palpiti di sposa, i suoi dolori, le sue delusioni di moglie e di madre. E quindi non ebbi però il coraggio di dire immediatamente non scrivo nulla. Mi fu dato dalla monaca il libro dei processi. Processi per la beatificazione, il primo libro risale, fu completato nel 1727 e raccoglie le testimonianze di tutti quelli che l'avevano conosciuta, quindi dei fartelli ancora in vita, di molte monache che erano state, alcune di queste erano state amiche di infanzia della stessa Marianna, di certi padri carmelitani che l'avevano diretta o avevano collaborato con lei, e poi logicamente di tutte le monache dei vari carmeli, cioè del carmelo di Santa Cristina e anche del carmelo di Moncaglieri. Una litania di celebrazioni in cui si dichiarava l'eroicità delle sue virtù, non solo quelle virtuti ologali, fede, speranza e carità, ma eroica nella misericordia, eroica nella dedizione all'orazione, eroica nell'obbedienza. Insomma, dopo aver letto queste, io ero frastornato, ho detto qui c'è solo materiale per una bella ageografia e questo non fa, non piace, non mi piace, non riesco. Per fortuna però esistono, ed erano stati pubblicati recentemente, tutti gli scritti di Maria degli Angeli, che sono di due nature. Una parte sono cosiddette relazioni che scrive lei stessa e che riguardano un racconto della sua infanzia, delle traversie che affronta per ottenere il permesso di farsi monaca, delle sue prime esperienze in monastero, abbastanza dolorose per lei, e poi fino, diciamo, agli anni 1690. 89-90. Poi esiste un enorme carteggio che lei scambia, queste lettere scambia, sia con alcuni familiari, ma molto poco, molto con le monache sparsi in tutti i carmeli, di cui in un certo senso diventa consigliera, quasi direttrice, da un certo punto poi della sua vita, e il carteggio molto importante e molto significativo che ha per più di dieci anni con un certo padre, padre Lorenzo di San Michele, che è per quegli anni il suo direttore spirituale. allora decisi che avrei fatto parlare Marianna in prima persona o quasi, cioè avrei fatto parlare i documenti che la riguardavano e io avrei scritto praticamente come senza fare commenti, interpretazione, eccetera, lasciando al lettore piena libertà di decidere che cosa poteva essere rispondente a lui e che cosa no. Che, per questo motivo, anche il titolo che gli ho dato al libro Io sarò carmelita, sono parole esattamente di Marianna Fontanella che lei pronuncia davanti alla Sindone nell'esposizione pubblica del 1676 quando capisce che il Carmelo sarà il luogo in cui dedicarsi al Signore. Mentre l'immagine che voi vedete di fianco è abbastanza non è così bella ma comunque l'ho scelta perché viene da molto lontano viene da South Bend nell'Indiana nella cattedrale di Notre Dame che è la cattedrale della più grossa università cattolica negli Stati Uniti ed è risale alla fine dell'Ottocento questa immagine. Sono vetrate che poi riportano molti santi. Quindi mi sono detta Maria degli Angeli era conosciuta anche al di là dell'oceano. Speriamo che per richiamo possa essere di nuovo conosciuta o perlomeno ricordata anche nella sua Torino. dicevo che mi sono quindi praticamente attenuta a quello che lei scriveva soprattutto riguardo la prima relazione che come dicevo racconta la sua infanzia. Però Marianna che nasce il 7 gennaio del 1661 è la undicesima nascita in famiglia la cosa non meraviglia per i tempi e dopo di lei nasceranno solo due altri maschietti. Le sorelle sono sette compresa lei i maschi sono quattro ma in questo racconto dell'infanzia stranamente Marianna non accenna a un episodio gravissimo la morte di suo padre nel 1668 quando lei sta per compiere i sette anni sette otto anni neanche accenna alla morte che avviene due o tre mesi dopo di un fratello che lei non ha mai conosciuto perché da sempre era a Giaveno presso il seminario dove aveva deciso di studiare per farsi prete allora il fatto che lei non metta mai non nomine mai suo padre lasciamo stare il fratello ma non nomine mai suo padre mi era sembrato una cosa assolutamente strana e forse poi ho capito che quella sua ricerca fin dalle più giovani età fin quando era ancora in famiglia di un direttore spirituale di qualcuno che la guidasse nel suo percorso di crescita nella fede nella spiritualità non fosse assolutamente casuale però tra le lettere una delle prime lettere che lei scrive dal Carmelo è mandata a tre sorelle che sono Clarisse e Acherasco allora mi è sembrato spontaneo di dare un quadro un po' più completo della sua vita in famiglia e quindi mi sono servita degli stati delle anime della sua parrocchia che era quella di San Simone Giuda una piccola chiesetta che esisteva all'interno dell'isola di San Simone e poi spulciato sul libro dei conti di Maria Tana che riporta poiché lei era tutrice dei figli e quindi anche del patrimonio familiare riporta esattamente le spese fatte allora si capisce che c'è un turbinio di ragazze che vanno in monastero a Cherasco dove peraltro c'era una zia chi va a Chieri ineducandato poi tornano poi vanno e Marianna diciamo assiste a tutta questa dei rivieni delle sorelle dicevo tre sorelle saranno a Cherasco una si farà monaca lateranense a Torino un'altra andrà a farsi monaca cistercense nel monastero di Saluzzo noto come monastero di Rifreddo e proprio a Saluzzo Marianna ha la sua prima esperienza con una vita claustrale perché segue la madre che si reca per vedere la vestizione della figlia e con un sotterfugio entra in monastero vi resta più di un anno ma evidentemente qualcosa non le va bene lamenta infatti la mancanza di un direttore che la capisca ecco sempre questa ricerca di una figura maschile che la aiuti a crescere e da da Rifreddo dopo un anno e mezzo più o meno ritorna a Torino nel 1676 a gennaio ha l'occasione di vedere l'esposizione della Sindone e in quel caso avendo come vicini due padri carmelitani della chiesa di Santa Teresa che la proteggono durante un'improvviso acquazzone viene a conoscere la regola del Carmelo e decide che lì si farà monaca e la frase che pronuncia nel cuore che poi invece ripeterà a gran voce a sua madre e suo padre sono io sarò carmelita ripetendola poi in una forma che per me è bellissima anche se c'è del piemontese mi sarò carmelita va bene il monastero non mi dilungo sulla storia del monastero carmelitano l'unico a Torino di Santa Cristina voluto da madama Cristina per sconfiggere come voto per sconfiggere la sua sterilità e quindi un monastero di patrocinio ducale tanto che per poterci entrare dopo aver vinto il contrasto con la famiglia con sua madre in particolare devo ottenere il permesso di Giovanna Battista entra a novembre del 1676 non ha ancora compiuto appena 15 anni e l'anno successivo vestirà farà la professione religiosa il contatto con Giovanna Battista è praticamente costante perché Giovanna Battista era solita ritirarsi nel monastero in occasione per una giornata della ricorrenza della morte di Carlo Emanuele II ma poi col passare degli anni si farà sempre più frequente i suoi soggiorni nel monastero dove peraltro aveva un appartamento voluto da madama Cristina che lei poi aggiusterà farà rifare in modo molto elegante direi sontuoso contatti i primi anni diciamo dal 76 77 fino al 90 sono anni in cui lei percorre quelli che nella lingua carmelitana sono le notti oscure cioè ha sovente delle crisi mistiche delle crisi diciamo mistico spirituali forse meglio dire spirituali e in tutto questo tempo lei scambia queste lettere interessantissime con questo padre Michele scusa padre Lorenzo e qui e noi conserviamo anche cioè abbiamo anche le risposte di questo direttore di questo direttore spirituale che indubbiamente sono di altissimo livello il col 1690 praticamente lei che ha già avuto delle estasi delle visioni mistiche viene riconosciuta così così profonda e così capace di ammaestrare altre fanciulle che vogliono diventare monache carmelitane quindi all'età di 30 anni viene eletta maestra delle novizie nel frattempo in monastero non c'è più solo Giovanna Battista che passa molto tempo e che la comincia ad apprezzare è la monaca preferita di Giovanna Battista ma c'è anche Anna d'Orlean che ha un grosso dolore nel cuore quello di non avere ancora generato un figlio maschio nonostante il suo ardente desiderio tra il nel 94 poi Maria degli Angeli viene eletta per la prima volta apriora e di lì diciamo comincia anche la sua vita pubblica anche se le dame di corte che accompagnavano Anna d'Orlean e Giovanna Battista spargevano già fuori notizie su di lei erano state sovente anche testimoni delle sue estasi della sua capacità di astrazione nella preghiera e queste cose circolavano ora non solo nella corte nell'alta aristocrazia ma mano a mano passavano nel nel popolo bene ci sono come elementi fondanti della sua vita politica sono tre date in principalmente siamo alla fine del 1695 Vittorio Medeo II è impegnato in una lotta con il G14 Catinat ha messo a ferro e fuoco il Piemonte ha bruciato ha creato enorme carestie e la guerra ha preso due solenni sconfitte a Staffarda e alla Marsaglia la guerra purtroppo non accenna a diminuire la ispirazione e la sicurezza con cui Maria Anna scusate sua Maria degli Angeli insiste perché San Giuseppe venga nominato con protettore di Torino e la risposta del divino sarà ottenere una pace a riscontro nella verità storica il comune proclama San Giuseppe compatrono di Torino in una seduta del 31 dicembre del 1695 a distanza di pochi mesi dalla prima celebrazione della festa del Santo che avviene in Santa Cristina nel maggio del 1696 a luglio Vittorio Medio II firma una pace separata con Luigi XIV pace che gli riporta Pinerolo che era in mano francese dal 1631 e soprattutto gli permette di sposare la figlia primogenita Maria dell'Aide col duca di Borgogna che sarà la futura delfina di Francia quindi un successo tale che fa crescere nella mente delle persone che circondano Maria degli Angeli la convinzione della potenza delle sue preghiere a questa potenza si affida ancora Anna d'Orleang e Giovanna Battista che pregano perché nasca finalmente il figlio maschio e nell'estate dell'autunno del 1698 Maria degli Angeli confessa alle consorelle di avere di avere la certezza che la gravidanza della duchessa porterà alla nascita di un figlio che fu proprio quel principe di Piemonte Vittorio Amedeo Filippo battezzato con questi nomi della dinastia ma a cui Anna d'Orleang fece aggiungere il nome Giuseppe fu una prima e unica volta in cui un Savoia portò il nome Giuseppe un'altra diciamo queste cose logicamente non erano ferme nell'ambito delle diciamo delle principesse e della loro corte ma Vittorio Amedeo II ne era ben consapevole per cui quando nel 1703 Maria degli Angeli chiese di poter fondare un altro monastero a Moncaglieri perché un altro monastero piccola premessa la religione riformata da Santa Teresa Davila permetteva che in un monastero carmelitano ci fossero al più 18 monache e al massimo tre converse proprio per mantenere un livello familiare che non si formassero con briccole diciamo così come sovente poteva era capitato quindi poiché il monastero di Santa Cristina la fama di Maria degli Angeli richiamava molte nuove vocazioni ecco che un monastero di Moncaglieri avrebbe potuto accoglierle senza doverle dirottare come era successo fino allora sia verso Genova verso Savona ma addirittura nel Veneto in quel caso nonostante l'opposizione di del municipio di Moncaglieri Vittorio Medio II impose che venisse costruito ed è fu aperto a settembre del 1703 ma Vittorio Medio II aveva messo la condizione che Maria degli Angeli non abbandonasse Torino poi c'è come attività più propriamente pubblica la sua in suo intervento per sostenere una popolazione affranta nel 1706 durante il sedio di Torino quando lei comunicò a Sebastiano Valfre che aveva avuto una visione della Madonna che assicurava che alla bambina saremo liberi e questo messaggio certamente Valfre lo portò sia ai tanti feriti che erano curati in Piazza San Carlo sia anche quando si direcava sulle mura per sostenere i combattenti la l'amicizia ecco vorrei ancora dire due cose che spuntano chiaramente dalle lettere che Maria degli Angeli scambiò con i duchi diventati re in Sicilia perché in quell'occasione erano lontani e ci sono proprio dei rapporti si capisce che è un rapporto non da suddita a regina o da suddita a duchessa ma un rapporto molto molto fraterno molto affettuoso volevo leggervi solo due righe di questa di una lettera che scrive e sarò brevissima però che scrive alla regina quando è a Sicilia e dice è già gran tempo che conti i giorni e ogni santo che incontro nel numerarli lo prendo per avvocato appresso a Gesù a ciò presto ce la renda e felicemente la conduca in compagnia della majestà del nostro re ora che sento tanto approssimarsi la partenza loro da Messina ricorro a tutto il paradiso unito a ciò moltiplicati tanti intercessori le divine influenze siano e più grandi e più copiose per la prosperità del viaggio e custodia della preziosa salute di vostra maestà quindi è veramente una lettera nel suo stile ma una lettera affettuosa il anche Vittorio Amedeo II che ha conosciuto la potenza della preghiera di Maria degli Angeli scrive dalla Sicilia per chiedere un sostegno di preghiera allora la gente si affidava più alle preghiere che ad altri intrallazzi e infatti lei risponde anche qui solo due righe dice ubbidendo al suo invito all'invito di Vittorio Amedeo II insieme alle sorelle combatteremo con tutte le nostre povere relazioni mentre vostra maestà combatte per essere veramente re di se stesso già che Dio l'ha fatto re di tanti popoli e vuole farlo re nella gloria e ancora se permettete un altro piccolo accenno in cui in cui scrive questa miserabile peccatrice si firmava sempre peccatrice caramanitana scalza indegna era la sua eroica umiltà questa miserabile peccatrice unitamente con queste sue umilissime serve ne supplicano ogni giorno ardentemente la divina clemenza con grandissimo desiderio che disponga per una santa concordia con Roma in quello e nel rimanente con intiera felicità e ci riconduca presto e prosperamente in Piemontole maestà loro con Roma dice espressamente proprio perché Vittorio Amedeo II in Sicilia aveva dei problemi per con la Santa Sede per privilegi che la Santa Sede voleva mantenere evidentemente aveva chiesto a Maria degli Angeli se non un intervento diplomatico ma certo le preghiere perché la querelle si potesse risolvere alla fine i sovrani ritornano il primo ottobre del 1714 l'ultima cosa che voglio ancora dirvi dal viaggio in Sicilia e poi il 15 di ottobre Maria degli Angeli va con i figli con i due principi in Santa Teresa per la festa della Santa e Maria degli Angeli si vede che la sovrana è così piena di gioia avere accanto i due che tace ma però Anna d'Orlean si accorge che la monaca ha un'aria triste e se ne accorgono dopo la funzione anche le consorelle in Duomo in Duomo in Chiesa Maria degli Angeli spiega a una consorella che le era più cara che le era più vicina di aver avuto una visione terribile di aver avuto la visione del principe di Piemonte steso in una bara naturalmente non ne parla ottiene il silenzio anche da questa monaca però il 22 marzo del 1715 dopo una malattia di dieci giorni dopo un vaiolo terribile Vittorio Medeo Filippo Giuseppe muore e il dolore di tutto il popolo non solo dei genitori della nonna di tutto il popolo è immenso e Maria degli Angeli ha ma deve scrivere una lettera per ordine dei suo confessore dove deve dire che ha avuto questa visione ma che per fusillanimità non ha osato rivelarlo d'altra parte e questa lettera che scrive a Vittorio Medeo II che sembrava veramente sul punto di impazzire è anche questa bellissima due righe vi leggo solo due righe dice in fondo dice Gesù console il cuore afflittissimo di vostra maestà e poi un po' di cose dice la perfetta rassegnazione di vostra maestà ad essere il soccorso migliore che aspetta per salire la gloria del paradiso l'amatissimo suo Vittorio nostro defunto principe egli è per la divina misericordia in stato sicuro e non vorrebbe certamente ritornare agli pericoli di perderlo in questa miserabile vita non turbi dice ancora continua con il suo dolore il riposo del caro figlio acceleri la beatitudine a quella degna anima con verità di sacrificio perfetto a ciò presto sia intercessore nel bel paradiso per la maestà vostra e per la maestà della nostra regina per la conservazione e buoni esempi dell'altro figlio che Dio faccia degno e grande principi e si meriti tutto l'amore di vostra maestà anche in questa lettera c'è un lieve accenno al fatto che sembra che Vittorio Amedeo II non ritenesse il futuro Carlo Emanuele III che fu invece un grande re così all'altezza del fratello primogenito bene c'è poi questo accenno alla sua visione sulla peste che viene mandata a Torino secondo le preghiere e la visione di Maria degli angeli trasformata da peste degli uomini in peste bovina e poi ci sono gli ultimi anni di una sofferenza di malattie fisiche sempre più forti ma volevo dire che leggendo le lettere che lei scriverà soprattutto alle monache di Moncaglieri in cui diventa lei stessa direttrice e sembra un novello padre Lorenzo ci sono però degli spunti che sono di alta modernità mi ha colpito per esempio il fatto che in una lettera in cui un padre caramellitano le parlava di qualche monaca che praticava il in tutti i modi praticava il digiuno per divenire santa lei risponde non non è non avrebbe il paradiso tanti santi se l'unico vincolo per essere santa fosse il digiuno quindi c'è un atteggiamento direi non conformista che è indicativo dicevo dopo il 1714 quando termina il suo quarto priorato sembra che le monache la vogliano ancora rieleggere ma la sua salute va declinando rapidamente e morirà il 16 dicembre 1717 suscitando dolore e quasi un'isteria di persone che vogliono vedere la salma tanto da una calca tale tanto che crolla la balaustra dell'altare di santa cristina viene sepolta in santa cristina vi resta fino al 1802 quando per le note in posizioni del governo napoleonico il monastero viene chiuso spostata nella notte insieme alla salma di madama cristina che era pure sepolta lì nella chiesa di santa teresa e lì resta praticamente fino alla seconda guerra mondiale quando viene portata temporaneamente a moncaglieri per evitare la possibilità di bombe che in effetti su santa teresa furono cadere oppure e poi fu riportata a santa teresa fino a quando Anastasio Ballestrero il cardinale di Torino che era pure un padre carmelitano destinò che la salma la reliquia di Maria degli Angeli fosse portata a moncaglieri avevo accennato prima al processo di beatificazione che fu ripetuto cioè furono più deposizioni e poi fu lunghissimo vuoi per problemi probabilmente anche di attrito forse fra Torino e Roma anche le beatificazioni a un tempo erano un fatto politico e quindi si giunse solo al 1865 quando fu proclamata beata da Pio IX e la festa a Torino fu addirittura rimandata di un anno perché per far dimenticare i tragici morti di Piazza San Carlo quindi fu festeggiato poi con una cerimonia l'anno successivo nel 1866 grazie a Maria Teresa Reineri se qualcuno vuole chiedere qualcosa darei la parola a Presidente Giuseppe Pichetto magari se vieni alla Volevo complimentarmi con Maria Teresa Reineri perché avendo letto il libro sul fiocchetto e tante altre cose e conoscendola come fondo di donna lavorata in fisica e una scienziata mi piace come scrive in modo precisissimo precisa di dati di sintassi di avverbi di parole proprio una lettura che avviene in una cosa quasi un libro di fisica voglio complimentarmi è un merito in più allora il mio interesse per il libro io non avevo tempo di leggere in questi giorni e invece mi sono accinto a leggerlo e così l'argomento temevo forse a geografico come tu hai detto ma non lo è poi mi interessava anche la famiglia Tana la famiglia Fontanella allora leggo 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 insomma adesso contravengo al mio orario di dovere e di letture necessarie per andare avanti sul tuo libro sono arrivato a metà la domanda è Sara io voglio finire il libro e poterla farlo come fa una ragazzina di famiglia agiata che amava vestirsi bene forse trovava in casa velluti rasi cose così ma era sempre elegantissima fino al 14 anni quindi vivava bene benissimo aveva bisogno di nulla a accingersi una vita così umile in fermiera in cucina assistere alla gente proprio una vita diciamo che se non avesse avuto questa forza di combattere il demonio come dice lei un contrasto un contrasto incredibile non riesco a spiegarmelo psicologicamente questa è la domanda quando ho finito il libro su Itana ero molto curioso l'ho letto prima per Itana che per la Santa era una famiglia ricchissima in Piemonte avevano più giornate di terreno agricolo Itana che non so chi altri non vorrei dire Savoia ma Gustavo lo saprà del sicuro e poi ricordo la casa di Marantino che ancora esiste dove sono stato per amici la pellerina era di Itana dappertutto ci sono case di Itana e poi anche di Fontanella dico mia sorella chissà dove sono finiti Fontanella ma dice ma mia suoccia è Fontanella quindi è una scoperta di oggi ho finito complimenti in Fontanella di Baldissero sono estinti si sono estinti nei birago di Borgaro e comunque un grande patrimonio che penso dobbiamo conservare è un dovere conservarlo per onore del passato e per prospettive future immagino c'è ancora qualcuno dal pubblico che vuole intervenire il tema il quesito posto dal presidente Picchetto è un tema enorme quindi sull'ispirazione che investe la vocazione quindi ci vorrebbe forse le suore però vedo che c'è Beppe Campra che interviene vorrei sapere come si chiamava penso alla prima moglie di Vittorio Amedeo secondo perché poi ha spostato una seconda che poi la seconda moglie quando Anna Dorlea muore nel 28 e poi c'è questa moglie come sì sì è una seconda moglie che però è morganatica non verrà mai riconosciuta anzi poi dopo la morte di Vittorio Amedeo secondo viene imprigionata ma mi aveva chiesto qualcosa in particolare forse non ho è stato un matrimonio morganatico sì 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 che poi mi pare il figlio Carlo Maglione sì c'è stato la rinchiude in un monastero mi pare a Pinerono sì più o meno era una prigione rivestita rivestita da monastero sì ma insomma comunque ecco prima era imprigionata a Moncaglieri e poi portata in monastero grazie grazie c'è qualche altro intervento ultimo prego Bonino grazie la mia domanda pura curiosità un po' alatere volevo dire chiedere questo c'è una documentazione c'è esiste una documentazione che sia credibile o meno riguardo all'assedio di Torino del 1706 tenendo conto che il governatore di Torino se non sbaglio il Daum aveva direi 1500 militari che in parte erano luterani e quindi riformati tenuto conto che questa problematica era sentita abbastanza dal Valfré che si impegnava specialmente quando erano accampati in piazza San Carlo la domanda è questa si sono verificati in questo contesto visto che l'ambiente era cattolico visto il fatto che Suor Maria degli Angeli citava alla bambina saremo liberi e quindi di conseguenza c'era questo clima direi prettamente direi controriformistico diciamo si è creato un conflitto visto che eravamo alleati si era alleati ma nello stesso tempo si era direi abbastanza lontani direi con i militari austriaci ecco questo clima è conosciuto oppure allora la bambina quando lei dice alla bambina vuol dire la festa di Maria Vergine bambina che cade l'8 settembre quindi lei aveva avuto questa visione della madonna che le diceva che questa frase alla bambina Torino sarà libera ed è questo il messaggio che lei aveva mandato via c'è ancora un episodio in più Maria degli Angeli quando aveva queste visioni dubitava di queste visioni dubitava perché diceva sarà il demonio che si sostituisce alla Vergine per mettermi delle idee sbagliate in testa e proprio il giorno 30 meglio il giorno 30 di agosto lei ha un'ulteriore visione della madonna che dice sono io che dico questo non nessun altro e vedrete che il 31 vedrai che il 31 i piemontesi riescono a respingere i francesi dalle mura cosa che succede con l'episodio poi di Pietro Micca e quindi con la successiva ritirata dei francesi l'attacco di Vittorio Medvedo II e di Eugenio dall'esterno quindi non credo che ci fosse nessun particolare conflitto perché credo che tutti quelli che erano lì assediati accettassero poi allora Vienna era cattolica teniamo presente che era abbastanza cattolica non era ancora così riformata insomma c'era ancora un bel per esempio proprio Maria degli Angeli viene invocata dall'imperatrice d'Austria per avere le sue prechiere perché nasca un figlio maschio quindi c'era un grosso Carmelo a Vienna quindi diciamo che i rapporti ecclesiali e quindi di religione erano ancora molto stretti non c'è nessuna notizia di conflitti ma non c'è neanche una notizia di una così massiccia presenza luterana nelle armate austriache quindi c'erano effettivamente dei reparti che a tutti gli effetti erano esclusivamente riformati ma nessuna notizia con una documentazione sterminata di quanto avvenne in quei giorni di conflitti perché non era quella la materia del contendere la materia del contendere era quella di difendersi dai francesi che per quanto cattolici come ben sappiamo ai tempi dell'assedio di Nizza si allearono con gli islamici e con i musulmani in generale e quindi non erano molto schizzinosi in fatto di alleanze bene direi che possiamo chiudere qui anche per rispettare i tempi che ci siamo dati grazie a Maria Teresa Reineri il libro di oltre 400 pagine anche qualche inserto a colori edito da San Paolo lo potete trovare anche qui grazie a tutti voi della vostra presenza Gustavo Mola di Nomaglio grazie al presidente a tutti ci sono come centro studi preannuncio che ci sono un po' di ancora un po' di appuntamenti qualcosa lo trovate già uscendo lunedì 4 parleremo della stele della Mola Antonelliana e dal 13 in sede avremo la tradizionale mostra di libri ho già messo il programma lì mentre il 19 dicembre come nostro ultimo appuntamento e per chiudere anche l'anno e per augurarci Buon Natale in questa sala sempre grazie all'associazione amici della Biblioteca Nazionale al Generale Cravarezza presenteremo ma riceverete tutti i comunicazioni un libro nostro di nostra edizione nato da poco di Graziella Riviera La strada del fiammingo che riguarda i Sacrimonti Crea Varallo insomma un libro che è anche adatto a Natale e ai regali di Natale come questo grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti